A me non capiterà mai. Di Sabrina. Almeno una volta nella vita ciascuna di noi si è ripetuta questa frase di fronte alle sventure di qualcun'altra. Forse è proprio questa convinzione granitica ci ha rese cieche. Ho conosciuto Giulio durante il primo anno di università. Scienze della comunicazione non era l'unica cosa che avevamo in comune. Ci piaceva praticare sport, viaggiare, uscire con gli amici. Innamorarsi era stato quasi scontato. Dopo la laurea ci siamo lanciati con entusiasmo nel mondo del lavoro. Giulio ha trovato in fretta un posto in un'azienda prestigiosa. Io avevo un sogno ambizioso nel cassetto. Occuparmi del marketing in qualche grossa multinazionale e non disdegnavo la possibilità di lavorare anche all'estero. Non ricordo con esattezza quando ho accantonato quest'ultimo desiderio. Conoscevo tre lingue e me la sono sempre cavata bene a viaggiare, anche da sola. Ho impiegato anni a capire che la scelta di rinunciare a espatriare non era stata davvero volontaria. Così come buona parte delle decisioni che ero convinta di avere preso di comune accordo con Giulio.